Un questionario somministrato ai commercianti del centro storico per evidenziare le problematiche che ancora insistono in città dieci anni dal terremoto e trovare soluzioni che però siano condivise e partino dal basso. A portare avanti l'iniziativa Riccardo Perzio, delegato del PD comunale alle attività commerciali e produttive. La risposta da parte dei commercianti aquilani è stata al di sopra delle aspettative. In due giorni i volontari hanno somministrato il questionario. Una volta avuti tutti i dati sono stati sistemati ed analizzati in maniera analitica. Problema parcheggi e richiesta di far tornare gli uffici pubblici in centro. Questi sono sostanzialmente gli aspetti che vengono fuori con maggiore prepotenza dalle risposte dei commercianti intervistati. Nasce dall'iniziativa che abbiamo preso con l'esecutivo del PD L'Aquila poiché abbiamo ritenuto fondamentale andare ad analizzare un nuovo modo di fare politica ovvero partire dall'alto per cercare di coinvolgere tutte quante le attività commerciali e tutti i cittadini all'interno di questa condizione per andare a cercare delle iniziative popolari. Popolari perché le risoluzioni non devono essere calate all'alto bensì devono coinvolgere i commercianti che ovviamente ci lavorano e quindi ci vivono in questa situazione. Quanti commercianti avete coinvolto nell'iniziativa? Sono stati coinvolti circa 130 commercianti. Sono stati coinvolti e hanno avuto un'ottima risposta da questo punto di vista e devo dire che anche la percentuale di partecipazione è molto alta, quasi il 90% dei commercianti ha risposto. Quindi ci siamo sorpresi quasi di questo coinvolgimento popolare. L'iniziativa vostra è stata un'iniziativa concreta per vedere principalmente quali sono ancora le difficoltà a quasi dieci anni dal terremoto. Voi avete analizzato in maniera analitica tutti i dati che avete preso da questi questionari. Che cosa esce fuori a grandi linee? A grandi linee ci sono dati molto sorprendenti che in conferenza stampa e martedì prossimo illustreremo. Devo dire che le problematiche sono chiare. Noi tramite questa analisi che abbiamo fatto adesso cercheremo con una serie anche di coinvolgimenti delle associazioni del centro e di quant'altro attività commerciale di cercare delle proposte da portare in consiglio comunale per cercare di risolvere queste situazioni. Due problemi su tutti che vi hanno evidenziato? Evidentemente il problema principale forse sono i parcheggi del centro e anche per quanto riguarda le attività commerciali richiedono la riapertura di fissi pubblici.